Allora Assessore Angelillo intanto auguri per il suo nuovo incarico, un incarico di rappresentanza importante, impegnativo sicuramente, come intende svolgerlo questo incarico? Grazie, per me è un orgoglio, io sono molto fiero del nuovo incarico che mi ha concesso il sindaco Giovanni Gugliotti e come intendo svolgerlo? Intendo svolgerlo con la massima passione, il massimo impegno come ho fatto fino ad ora e come faccio in tutte le mie attività. Spero davvero di poter dare il massimo per Castellanita e sono certo che i risultati nel prossimo futuro arriveranno. Tra i suoi primi interventi pubblici una dichiarazione attraverso Facebook che riguarda l'investimento di Agromed a Castellaneta e in quell'occasione si è tolto qualche sassolina dalla scarpa? Sì, sulla vicenda Miroglio io ho investito tanto nel senso umano, dal punto di vista umano, non solo dal punto di vista politico e del tempo speso. Perché ho convissuto con i lavoratori Miroglio, ho vissuto le esperienze dei viaggi a Roma che erano veri e propri viaggi della speranza o a Bari in regione con la speranza di poter cambiare le sorti di quello stabilimento. Dovevo ai Mirolini una risposta perché so la loro sofferenza, so le tante famiglie che ancora oggi non hanno un reddito, non hanno un lavoro e che stanno perdendo la speranza di un futuro. E questa bella notizia del dissequestro invece riapre le porte a una possibilità concreta, concretissima, che quello stabilimento torni a produrre e torni a dare lavoro. Quindi non era una voglia di fare la guerra a qualcuno, ma era soltanto la necessità di liberarmi da quelle costrizioni che avevo subito nei mesi passati perché soffrivo insieme ai Mirolini di tutto quello che stava accadendo. Mi sembra che ci sia finalmente un'unione di intenti di voler portare a compimento questa riconversione industriale, ad iniziare anche dal sottosegretario Mario Turco, recente una sua dichiarazione di ieri. Ed è chiaro che lei ha anticipato che quanto prima sarà avviato il cantiere per riconvertire lo stabilimento. Quindi riconversione significa già poter avere qualche Mirolino al suo interno? Diciamo che l'unione di intenti c'è sempre stata, non ho voglia di dire diversamente perché non direi assolutamente la verità. Siamo tutti quanti dalla stessa parte, abbiamo tutti la volontà di portare veramente a casa questo importante risultato, che non è soltanto per Castellanita, ma è un risultato importante per tutta la provincia di Taranto, perché stiamo parlando di un'attività che collegherebbe Castellanita a tutta l'entroterra e al porto di Taranto. Quindi sicuramente c'è unione di intenti, il sottosegretario comunque ha dato la sua importante mano anche nei mesi passati, è chiaramente un elemento fondamentale, ci ha aiutato sicuramente per quanto riguarda la delibera del CIP, insomma è inutile non dire che sia fondamentale l'unione di intenti. La Regione Puglia ha fatto comunque la sua parte e il Comune di Castellanita sicuramente si è impegnata per questo importante risultato. Adesso parte la sfida, quella vera, adesso dobbiamo ragionare giorno per giorno, cercare di far partire quanto prima il progetto, bisogna lavorare sulla progettualità definitiva, perché è quello adesso il passaggio che ci manca, e sicuramente magari nei prossimi giorni cominciare a ragionare di colloqui, di selezione del personale, e quindi anche al tempo stesso vedere se nel prossimo futuro qualcuno possa già iniziare le prime giornate di lavoro, perché no. È tutto in divenire, quindi speriamo di poter nel minore tempo possibile avere delle buone notizie per i miroglini. Diciamo che motivo d'orgoglio per tutta la comunità di Castellaneta, ma soprattutto si dà merito ai lavoratori che hanno condotto una battaglia estenuante andando a prendersi letteralmente quegli stabilimenti strappandoli a miroglio. Sì, io quando sono stato letteralmente catapultato in questa vertenza, perché è partita prima del mio primo incarico, ho conosciuto i miroglini e sono rimasto impressionato dalla loro forza di volontà, dalla capacità di superare gli ostacoli che sembravano insormontabili, quando non si voleva far dei salire agli incontri pubblici, non solo locali ma anche in quelli romani. Ho visto veramente una grande forza di volontà e se oggi siamo qui a discutere di l'industrializzazione, sicuramente il merito è per buona parte dei lavoratori ex miroglio, che hanno dato il massimo per poter conservare la loro casa, il loro lavoro e quindi sono impegnati in questo. Ed è un percorso nuovo in Italia, il primo caso in Italia di reindustrializzazione fatta in questo modo, passando alla proprietà degli stabilimenti e comuni, è quello dell'ex miroglio. Quindi un grande riconoscimento alla forza di questi lavoratori e l'augurio che veramente siamo ormai alle porte per far ripartire il tutto. È chiaro che gli investitori che hanno la possibilità di poter investire in quegli stabilimenti devono in un certo qual modo sentirsi onorati di farlo, ma entriamo nel dettaglio dei numeri, quelli che riguardano l'investimento Agromed, di quante unità parliamo? Sono 28 unità al completamento del percorso progettuale, chiaramente divise per fasi, ha fatto parte comunque dell'accordo ministeriale, purtroppo nei tempi non abbiamo potuto rispettare i tempi, però i numeri sono sempre quelli, sono 28 unità lavorative, però sono certo che questa azienda avrà un grande sviluppo, quindi 28 è la certezza, ma non è detto che queste non possano aumentare, anzi sono quasi certo che ci saranno sicuramente degli aumenti, anche perché l'attività che sarà svuota nello stabilimento ex mirore di Castellanita è un'attività strettamente connessa al nostro territorio, perché fanno dei servizi che vanno a supporto dell'attività agricola, elemento fondamentale del territorio di Castellanita, ma anche di tutti i territori limitrofi, la trasformazione dei prodotti agricoli, quarta gamma e quindi la logistica, quindi tutte quelle attività che mancano sul nostro territorio e che valorizzeranno anche la nostra agricoltura. Quindi diciamo che il progetto Agromed potrebbe assorbire buona parte dei lavoratori che ancora attendono di essere rioccupati, che fanno sempre parte del bacino degli ex miroglio, ma come cronoprogramma delle assunzioni, come piano industriale e assunzionale, questo è stato definito? Era stato definito e adesso però bisogna fare nuovi incontri, anche sul tavolo vertenziale, ministeriale, ma anche regionale, proprio per definire il nuovo cronoprogramma, che purtroppo è saltato per le vicende note del sequestro e quindi non hanno permesso di rispettare quelle tempistiche. In ogni caso era già previsto che entro fine 2020 le prime cinque unità sarebbero state assorbite dalla società Agromed. e adesso invece tutto verrà slittato, ma i tempi sono comunque molto ristretti. Il completamento del percorso era previsto in un anno, un anno e mezzo, quindi i tempi non saranno molto lunghi per far partire il progetto. È chiaro che adesso bisogna capire da quale data dovremo partire nel calcolo di questa tempistica. Siamo sicuramente ottimisti, perché questa notizia del dissequestro ha cambiato totalmente la visione che sembrava veramente cupa e adesso dobbiamo puntare veramente a velocizzare tutti i processi che mancano da affrontare. Il prossimo atto è la consegna delle chiavi. Eh sì, di questo adesso stiamo ragionando. Abbiamo iniziato a vedere i contatti con la società Agromed. È chiaro che noi abbiamo mandato una nota per informarli dell'avvenuto di sequestro e quindi la fase successiva sarà veramente stabilire un incontro con la società, ma anche a livello regionale di task force e al ministero, per capire i passi prossimi da effettuarsi. Chiaramente per noi già domani potremmo fare la consegna delle chiavi, perché vogliamo veramente che ci sia lo sprint per arrivare al risultato definitivo. La mia gioia sarà quando le porte dello stabilimento saranno aperte e vedrò i mirollini che conosco ormai personalmente uno per uno, li vedrò dentro lì a lavorare. In quel momento sarò davvero felice.